vediamo ora come poter utilizzare gli effetti di preset per questo esercizio analizzeremo un flow già preparato che riproduce l'effetto di una fontana a getto se apriamo il particle view notiamo che il flow è costituito da tre eventi già rinominati all'occorrenza dentro i quali troviamo un board con una durata molto lunga questo perché vogliamo evitare che lo spov generi dei limiti di emissione con un'emissione a rate invece che amount un position icon in modalità pivot per far sì che la sorgente parti dal centro dell'emettitore uno speed con una leggera divergenza force con il wind associato che in questo caso genera solo delle variazioni di moto quindi sarà attivo solo come turbulence un altro operatore force collegato con la gravity ma che in questo caso la sua influenza è minore rispetto al valore standard un collision spovn al quale è associato il deflettore e genera molte più particles rispetto al valore standard infatti troviamo un valore di 25 questo perché gli splash che si formeranno saranno molto di più rispetto alla singola particella che troviamo all'inizio esso è collegato ad un altro event in questo caso denominato splash event nel quale troviamo un wind come sopra uno speed con modalità orizzontale e una velocità più bassa un delete che controlla la vita delle particles e per concludere uno spovn il quale ha il compito di inviare non tutte ma solo una parte in questo caso il 25 per cento delle particelle generate in questo evento al prossimo nel terzo ed ultimo evento troviamo un operatore force con il wind e un di lit impostato sull'età questo sistema è molto semplice e come vediamo possiamo ricreare perfettamente un effetto a fontana nel caso volessimo variare l'emissione da spruzzo verticale ad uno spruzzo ad ombrello quindi molto più ampio ci basterà cambiare la divergenza dello speed che troviamo nel primo evento oppure se volessimo renderizzarla possiamo aggiungere come per l'esercizio della pioggia operatori come il shape e material static per generare delle geometrie e associare un materiale acqua ovviamente anche con un bel po di motion blur ma l'intento dell'esercizio non è tanto mostrarvi come realizzare questo effetto ma come poterlo salvare come preset e richiamare volta a volta nelle vostre scene spesso sconsiglio di utilizzare sistemi di preset perché ogni scena ha la sua storia e quindi un determinato insieme di impostazioni non sempre si addice a tutte le scene di lavoro questo nel mio tipico workflow vale per tutto quello che è computer grafica quindi dai modelli ai setting di render passando per materiali ed altri asset ma in casi particolari partire con una base potrebbe essere una buona scelta per salvare i vari elementi come preset conviene sempre rinominarli con nomi non comuni o di default in modo tale da evitare che si sovrascrivino con altri già esistenti in altre scene dove volete implementarlo infatti analizzando il nostro file i nomi sono tutti diversi bene dal nostro particle view dal menu a discesa selezioniamo tools preset manager si aprirà una finestra di dialogo nella quale possiamo inserire il nome del nostro flow una descrizione e vedere quelli già salvati in precedenza salviamo ed apriamo una scena totalmente nuova apriamo il nostro particle view e generiamo un preset flow appena generato nell'area di lavoro si aprirà una finestra di dialogo dalla quale possiamo scegliere il nostro flow appena salvato e premiamo ok possiamo vedere come esso venga generato in una scena senza bisogno di dover far nulla naturalmente avendo nomi differenti non ci viene chiesto nulla da 3dx max in caso contrario potrà segnalarci che esistono delle geometrie o degli elementi con lo stesso nome a questo punto possiamo vedere come modificarlo molto velocemente mettiamo caso di voler associare il nostro flow ad una geometria o serie di geometrie ci basterà solo sostituire il position icon con un position object ed il gioco è fatto ovviamente se dovevamo ripartire da zero avremmo perso del tempo per una scena dove magari o non c'è molto tempo o l'effetto non deve essere così curato come in altre situazioni capite bene che tali strumenti sono molto comodi specialmente in fase di produzione nel risparmiare tempo ma non sempre sono ideali poiché dei preset rimangono sempre dei preset quindi delle impostazioni preimpostate dove non sempre i valori che posseremo trovare in una scena sono magari ottimali per un'altra scena attenzione per un'altra scena